Ciao a tutti scusate il ritardo nella pubblicazione di oggi però purtroppo sono appena arrivato dalla partita Per chi non sapesse gioco in seconda categoria e oggi abbiamo vinto Detto questo ci tenevo a fare un video molto breve in cui vado ad elencare le azioni che ho comprato durante il crollo Che durante un anno e mezzo perché sostanzialmente ho insistito praticamente sempre sulle stesse Prima di partire volevo chiedervi due cose La prima è scrivetemi qua sotto nei commenti quali azioni avete comprato voi In modo tale che questo video sia utile un po' a tutti infatti andremo ad analizzare magari le più likeate Quindi commentate e poi mettete like al vostro commento oppure decidete a quali commenti mettere mi piace Così andremo ad analizzare quelle aziende lì Seconda cosa mettete like perché se raggiungiamo i 100 likes questa settimana andrò ad analizzare il mio portafoglio Ve lo farò vedere completamente Per chi fosse nuovo iscritto e non sapesse come funziona Il portafoglio pubblico è un portafoglio che investe solamente tenendo conto dell'algoritmo che ho creato io Come funziona l'algoritmo? L'algoritmo tiene conto di 50 aziende che sono all'interno del mio portafoglio E mi dice sempre ogni settimana perché per chi non lo sapesse faccio un piano di accumulo settimanale In cui investo 100 euro a settimana e quei 100 euro lì li divido fra 10 aziende Poi nel caso in cui l'algoritmo mi consigliasse di vendere alcune azioni perché o sono cambiati fondamentali O semplicemente hanno già raggiunto il price target Allora a quel punto lì le vendiamo e quei soldi li dividiamo tra le aziende che sempre l'algoritmo ci consiglia di comprare Allora andiamo a vedere quali sono le aziende che tendenzialmente l'algoritmo ci ha consigliato di comprare nell'ultimo periodo Che poi ultimo periodo si parla poi in realtà dell'ultimo anno e mezzo Un'azione che sicuramente nell'ultimo periodo l'algoritmo ci ha consigliato di comprare è Tesla Infatti come potete vedere se noi andiamo sul Tesla e andiamo a vedere la storia Andiamo a vedere come tendenzialmente ho avuto sempre solo più acquisti Partendo da novembre Sì vedete io ho comprato fino a novembre 2020 Perché il mio algoritmo mi consigliava di comprare fino a novembre 2020 E poi inizio da ricomprare due anni dopo Non ho mai venduto semplicemente perché la posizione non era abbastanza grande da poter vendere Ma il prezzo non mi consentiva nemmeno di comprare A quel punto lì ho aspettato Mi ha consigliato di un profitto Attualmente mi ha riconsigliato di comprare E infatti come potete vedere nonostante il crollo di Tesla all'incirca di un 70% se non ricordo male Io sono tuttora in profitto del 2% che è poco però la posizione è anche piccola Quindi c'era quello da considerare Un'altra azienda che mi è stata consigliata di comprare tramite il mio algoritmo Che tra l'altro se volete un giorno forse ve lo farò vedere Se sarete degni di vederlo È Westrock Infatti se ne andiamo a vedere la storia Bisogna vedere che ho semplicemente continuato a comprare Comprare fino a... diciamo che ho iniziato a comprare Ho sempre un po' comprato Poi dipendeva anche dal prezzo Però qua a ottobre ho comprato Ecco no Ho smesso di comprare a gennaio 2022 E ho riniziato a ottobre 2022 Che se volete vedere un po' i grafici Corrispondevano sostanzialmente con i crolli che ha subito l'azione E trovo che Ma non lo dico io Lo dicono semplicemente i miei rendimenti L'algoritmo funzioni abbastanza bene Ovviamente ci sono ancora delle cose da perfezionare Però penso che ha dell'ottimo ottimo potenziale E il portafoglio Questo qua l'ho creato apposta per testare l'algoritmo Altre due aziende che mi ha sicuramente consigliato di comprare l'algoritmo Sono Alphabet e Microsoft Se non ricordo male Infatti se ne aggiungiamo al grafico Microsoft E andiamo a vedere In storia Possiamo vedere che recentemente ho comprato spesso Gennaio Dicembre 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 No qua erano dividendo Però comunque novembre 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 Ottobre Ottobre Comunque in linea generale ho praticamente sempre comprato Settembre Poi diciamo che ho smesso di comprare E poi diciamo che ho smesso di comprare con Microsoft Lo ho smesso di comprare a marzo 2021 E ho rincesso a comprare praticamente a settembre 2022 Quindi un anno e mezzo dopo E se voi vedete il grafico aveva senso quello che ho fatto Stessa cosa vale per Alphabet Infatti se ne andiamo a vedere la storia No beh Alphabet ho quasi sempre comprato Visto che il mio algoritmo mi ha quasi sempre consigliato di comprare Semplicemente Alphabet è scesa Perché sono cambiati i fondamentali macro Infatti Tendenzialmente in momenti recessivi Il mercato pubblicitario ne risente Di conseguenza Gli analisti devono abbassare le stime sui utili per azioni Di conseguenza Le prospettive ricreste di Alphabet Cambiano E a quel punto lì Sono cose che non possiamo prevedere Ma comunque sono super contento della mia posizione in Alphabet Che per chi non lo sapesse è in profitto del 13% Nonostante il crollo È anche la posizione più grande del portafoglio pubblico E ne sono tuttora contento e convinto Quindi non ci sono assolutamente problemi Un'altra azienda che sono contento di aver continuato a comprare È sicuramente Alibaba Che attualmente mi è in perita solo del 16% Sono contentissimo Semplicemente perché Alibaba Sia su questo portafoglio qua Ma soprattutto sui altri due portafogli Che lì ovviamente la posizione è molto più grande Dovrebbe essere più grande di 7-8 volte Quindi sicuramente il fatto che sia risalita Ha fatto performare bene Gli altri due portafogli Che hanno sicuramente sovra performato Le semi 500 nell'ultimo anno E di questo ne sono veramente molto contento Come potete vedere Alibaba Io ho praticamente sempre continuato a comprare A parte Ma in realtà ho quasi sempre comprato Dicembre, dicembre, novembre È una delle poche aziende Che ho praticamente sempre comprato Se voi guardate Settembre, agosto, 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 agosto Alibaba ho praticamente sempre comprato Perché io sono sempre stato convintissimo Dell'azienda Stessa cosa vale per Pinduoduo ragazzi Perché io continuavo a vederla scendere Ed ero sempre più convinto di comprare Infatti Pinduoduo è una posizione Che ho costruito poco tempo fa Un annetto fa Sono stato imperita tantissimo Perché io sono entrato proprio sul massimo Poi ho continuato a comprare Comprare, comprare, comprare Ora è una delle posizioni più grandi Ed è anche una delle posizioni Dove percentualmente sto guadrando anche di più Perché in relazione anche al tempo Nel quale ho investito Perché Pinduoduo sto guadrando il 30% Ma penso che il primo acquisto L'ho fatto poi un anno e mezzo fa forse Quindi ho fatto praticamente il 30% in un anno Che poi contando il money weight rate of return Sarebbe molto più alto Perché ovviamente la maggior parte dei depositi L'ho fatti ultimamente Infatti se non andiamo a vedere La storia di Pinduoduo Io ho praticamente Andiamo a vedere quando ho aperto la posizione La posizione non l'ho aperta tantissimo fa Ecco la posizione l'ho aperta 2021 Beh in realtà due anni fa Ho coperto due anni fa le prime posizioni Ma io sono entrato proprio sul massimo Mi sa 209 Sì sono entrato sul massimo Sì sì Sono praticamente entrato sul massimo Ho fatto il timing perfetto signori Poi ho semplicemente continuato a comprare Perché i fondamentali continuavano a migliorare Quindi ho comprato, 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 comprato E ora mi trovo in profitto E pure bene Perché sto guadrando il 30% in due anni Ma se voi calcolate il money with rate of return Il guadagno secondo me è quasi del 30% anno E qua la situazione cambia signori Un'azienda che sto continuando a comprare Ma continua a non salire Ma a mio avviso comunque conviene sempre acquistarla Ma questi valori qua è Medifast Medifast io adesso sono in perdita del 37% Che è veramente tanto Se poi noi in realtà andiamo a togliere il dividendo Probabilmente sono in perdita Forse del 25% Perché comunque il dividendo è molto molto alto Io ce l'ho da tanto tempo Attualmente penso abbia un dividend yield intorno al 5% Quindi non dovrei essere in perdita di troppo Però diciamo che sono in perdita Come potete vedere io ho praticamente sempre acquistato Ovviamente ricevo il dividendo ogni trimestre 5,50€ che non fanno mai male Però praticamente Medifast non so se l'ho mai vista in positivo io Perché l'ho comprata e forse ha sempre colato Forse ho iniziato a guadagnare un po' Però la posizione era troppo piccola Quindi non aveva senso nemmeno vendere E stavo continuando a costruire la posizione E quindi sostanzialmente sono quasi sempre stato in perdita Però è una posizione che io continuo a comprare Perché secondo me e secondo me l'algoritmo Ha senso comprare Quindi è giusto che io continui secondo la mia strategia Che è quella iniziale Un'altra azienda dove io guadagno bene Perché guadagno il 73% su questo portafoglio qua E forse è il 100% sugli altri È Nvidia ma a mio avviso Ragazzi fate attenzione Perché a questi prezzi qua è molto interessante Molto Se tra l'altro avete 10 ore che vi porti un video dettagliato su Nvidia Fatemelo sapere perché Credetemi che a questi prezzi qua Inizia ad essere molto Ma molto interessante Ovviamente avevo smesso di comprare Quando si trovava in prossimità di questi prezzi qua Perché non aveva troppo senso Però dopo questo crollo qua È ancora interessante veramente L'altra e ultima mia scommessina Come sapete Aptart Che sostanzialmente è un'azienda fondata da un ex Google Che si basa semplicemente su un algoritmo Che certifica il rating creditizio dei richiedenti Ed è molto più veloce del modello attuale utilizzato dalle banche È sicuramente una scommessa che attualmente sto perdendo Perché sto perdendo il 60% Però io sono convintissimo Dell'azienda su cui ho investito Ovviamente non prende spunto da me Perché attualmente mi sto sbagliando Però io continuo a comprare Semplicemente perché La reputo un'azienda Che risolve un problema reale Che ha un bel moat E che soprattutto ha un bel management E questo non è mai da sottolotare Detto questo come vi dicevo Non state ascoltare me Che sono semplicemente un ragazzo di 24 anni Che magari forse anche un po' presuntuoso Ma detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like, un commento E ci vediamo domani Ciao a tutti